Giulia, tra qualche giorno facciamo il trasloco e non sappiamo ancora dove mettere tutte le nostre cose. Non è vero, io lo so. Ah sì? Sì, dunque, il tavolo grande lo mettiamo nel soggiorno vicino alla finestra, il divano lo mettiamo di fronte al mobile del televisore, il tappeto rosso... Un momento, lo specchio lo mettiamo nel soggiorno o nell'ingresso? Nell'ingresso non c'è spazio, lo mettiamo nel soggiorno, sei d'accordo? Veramente, io lo vorrei mettere nell'ingresso? D'accordo. E tutte le tue piante? Quelle le mettiamo nella camera da letto e nella cucina. Con le piante, il letto e l'armadio, in camera da letto non c'è più spazio per la mia scrivania. Allora la mettiamo nel corridoio. Nel corridoio? Ma no, nel corridoio sta male. Perché non mettiamo le tue piante nel soggiorno e la scrivania nella camera da letto? E va bene.